Oggi siamo da Play Music Store a Roma, nel paradiso delle batterie. Laggiù in fondo c'è Lorenzo e vado subito da lui perché oggi voglio chiedergli un po' di informazioni su delle batterie di fascia medioeconomica, da stare più o meno sui 1000 euro, che possano funzionare bene. Quindi, Lorenzo è qui e posso chiederti subito, ma prima giro la camera perché altrimenti è un problema. Quindi arrivo e giro la camera. Eccoci qua, adesso ti vediamo meglio. Ciao Lore. Allora, batterie, fascia più o meno sui 1000 euro, diciamo, quindi di fascia, non dico economica, ma medioeconomica. Cosa mi puoi consigliare e in generale quando arriva un ragazzo, un signore, chiunque, a chiederti cosa gli consigli, quali sono le domande che gli fa, eccetera. Ce l'abbiamo. Allora, mi verrebbe in mente come prima proposta, quella più semplice, chiave in mano, che è quella che fa Perl con Export, dove insieme ti danno una batteria piuttosto funzionante per la fascia di prezzo, ha due configurazioni di misure, sia standard, sia fusion, come al solito chiamare, compresa di tutte le meccaniche, compresa anche di piatti, ed è proprio la soluzione chiave in mano. Tu la prendi a casa, la prendi qua, la porti a casa ed è già tutto, hai già tutto, ti mancano le bacchette. Ok, che è quella bianca che vedevo qui. Proprio lei. Ok, proprio lei, ottimo. Quindi questa qua Perl Export, quindi ha già i piatti, ha già tutto quanto, appunto, chiave in mano, come dicevi. Così come... Ti ha portato a casa. Ok, ottimo. Allora, spostiamola di qua, portiamola di là, dove registriamo tutto, e vediamo come suona. Let's go. Ok, eccoci qua, Perl Export, perl Export tra l'altro è una batteria dove, per quanto mi riguarda, vado sempre sul sicuro. Quindi mi fa piacere provarla per prima, perché così ho una batteria che conosco, che conosco un po' di più, puoi dire anche un po' di cose, però almeno poi posso paragonarla successivamente con le altre. Dimmi tu, intanto, di questa batteria, come funziona, eccetera, eccetera. Beh, la cosa interessante, come ti dicevo, è proprio la formula semplice, chiave in mano. Tutto quello che ci ha montato è tutto quello che troverai all'interno delle scatole una volta acquistata, quindi è compresa anche di piatti e meccaniche. La fanno in due configurazioni, come dicevamo, adesso stiamo provando quella ROC, quindi con le misure più grandi. È un, tra virgolette, un ibrido di Mocano Pioppo, quindi pochi fronzoli. È in questa finitura molto elegante di bianco opaco, e secondo me una delle più belle. Risalta, diciamo così. Comunque è una batteria che risalta quando sono entrato oggi. Infatti ti ho detto, quella che c'è all'inizio, perché comunque l'avevo vista subito, anche su un palco, immagino, funziona molto bene. Ottimo, quindi direi, proviamo un attimino come va in generale, proviamo questi piatti che sono di Sabian. Sì, SBR, la serie economica che fa Sabian, ha fatto un collaborazione. Ok, va bene, proviamo. Mi sembra molto bella per il ROC, cioè comunque è una batteria che l'ho lasciata accordata come l'avevate accordata voi, perché so che ci tenete alla questione accordatura, quindi qualsiasi batteria mediata in questo momento qua è comunque già accordata, poi l'accordatura è una roba ovviamente soggettiva, ma questa effettivamente comunque mi piace perché è molto secca, non ha i ton che risuonano molto. Quindi rimangono lì e comunque appunto, secondo me è una batteria che si può portare live come volendo, o comunque si può portare anche per fare delle produzioni in studio tranquillamente, esatto. E anche per quanto riguarda il rullante, tirato abbastanza. Però anche qua ha un po' di armoniche, ma... Giuste. Funziona, funziona tranquillamente, poi se lo vuoi un filino più secco basta che gli metti tanto così di mongel e sei a posto. I piatti non sono male, secondo me, contando che sono insieme alla batteria, forse potrebbero essere la prima cosa, magari, se appunto porti tipo in studio da cambiare, però alla fine fanno loro, eh. Anche perché la cosa che ascolto, principalmente sempre sui piatti di pace economica, è se si sente il metallo dei piatti. Sì, cioè perché in tanti piatti economici si sente proprio quel metallo un po' fastidioso. Qui comunque, devo dire che non si sente. Quindi, nel complesso, mi piace molto con la batteria. Sono innamorato su questa fascia di prezzo da Expo, da sempre. Minimo sforzo, massimo risultato. Esatto, esatto, esatto. Proprio piglia, porta a casa, piglia e porta dove vuoi. Esatto. Quindi, sicuramente un ottimo strumento. Adesso, appunto, proviamo altro così. Mi sento su questo, intanto anche voi fate sapere nei commenti se vi piace di più questa, l'altra, eccetera, quando le proviamo. Cambiamo un po'. Ok. Adesso torniamo in negozio e cerchiamo un'altra cosa, un po' diversa. Ok, molto bene. Quindi, Expoort, devo dire che sembra una garanzia. Allora, che cosa c'è se voglio magari qualcosa di un po' più piccolino, anche come dimensioni, rimanendo sempre più o meno su quella fascia di prezzo e su un suono che, appunto, sia buono. Cassa da venti? Cassa da venti, dai. Cassa da venti. Allora, mi verrebbe in mente, rimaniamo sul bianco. Ok, perfetto. A me il bianco piace molto. Puramente, sì. È una cosa un po' soggettiva, ma il bianco mi piace molto. Disalta bene. Sono un grande fan anch'io. Ok, quindi direi lei. Akuno by Sonor. Adesso ce la buttiamo su, strumento incredibile per la fascia di prezzo che ha, betulla pura. Ok, ottimo. Questa non è completa, penso. No, in questo caso no. C'è tutto quello che vedi in questo momento, tranne i piatti. Ok, ottimo. Quindi insieme ti danno queste due aste a giraffa. Ti danno anche il pedale, ti danno anche il Charleston, ma i piatti vanno messi su. Adesso ce li scegliamo. Quindi piatti direi Ride, Crash e Charleston. Andiamo, tanto i piatti sono qui. Proprio di qua. Quindi scegliamo direttamente i piatti. Che cosa mi consigli, contando che appunto siamo su una fascia di prezzo medio, media, dai, diciamo così. Cosa dici come piatti? Allora, io andrei su Minol in questo caso. Ok. Piatti singoli o set? Guarda, quando servono direttamente, se vogliamo fare un lavoro uniforme, anche sul set di piatti, appunto andrei su un set. Ok, perfetto. Quindi mi sentirei di andare a prendere in considerazione HCS sicuramente, oppure la serie Classic, che è un po' come il nero, sfina e va su tutto. Ok, quindi ho questa Classic qua o HCS che è qui dietro. Ok, allora, io HCS in generale la consiglio sempre, perché mi sembra un'ottima scelta. Proprio per questo, dato che l'ho portata più volte sul canale, andiamo su Classic. Vogliamo Classic. Benissimo. Vai, montiamo tutto e andiamo. Let's go. Eccoci qua. Allora, uguale solo per il colore, direi, questa batteria. Un po' più lucida di prima, dai. Un po' più lucida, è vero, è vero, perché l'altra era opaca. Questa è lucida. Cassa da venti. Cassa da venti. Dieci, dodici, quattordici. Yes, andiamo con le misure un pochino più ristrette. Ok, ottimo. Intanto vai pure, dimmi pure qualcosa. Io abbasso il chat adesso, intanto. Allora, rispetto a prima, siamo su un legno ben definito, quindi betulla, sei strati, quindi anche qui batteria da tasso logo, misure, come abbiamo detto, più piccole rispetto a quelle di prima, ma adesso suonandola ti renderei conto che ha una bella presenza, una bella panacca, una legna, come dicevamo prima, e abbiamo integrato in questo caso, visto che nel kit sono comprese solo le meccaniche, solo, tra virgolette, ma non sono compresi piatti, abbiamo integrato questi minor della serie Classic Custom, bronzo B10 con Charleston 14, 16 e 20, quindi super standard, per andare a chiudere tutto il set. Ok, Classics che non ho mai provato, quindi sono curioso, e in più, dato che non lo state vedendo di lì, queste hanno montate delle Sonor by Remo, ma che praticamente sono delle pinstripe. Assolutamente sì. Quindi pelli comunque che tengono abbastanza il suono. Assolutamente. Allora, proviamo, proviamo. Facciamoci un giro. Ok, allora, parto dai piatti. Yes. Belli questi piatti. Belli questi piatti. Siamo alla fascia sopra di HCS, no? Siamo alla fascia, sì, siamo un po' su di HCS, ma comunque contenuti nel prezzo per il kit. Certo. Perché effettivamente sono quali da prezzo da paura, mi sento proprio di dirlo, perché io anche sono rimasto molto colpito, la prima volta che lo Sonati è stata esattamente la stessa sensazione che ho visto nel tuo feeling. Sì, esatto. Poi più che altro, main or main, non so mai come si dica, ma devo dire che, soprattutto almeno mi sembra negli ultimi anni, sulla fascia economica, medioeconomica, abbiano fatto un passo avanti enorme. Per quanto riguarda la batteria, molto ferma, molto... rimane lì, quindi rimane lì secondo me ancora di più rispetto all'export di prima. Ok. Forse anche grazie alle pinstripe, però devo dire che sinceramente mi trovo meglio su questa, sia per il suono, sia per la conformazione della batteria. Ottimo. Perché il 12-13 come tom, per quanto mi riguarda, rimangono sempre un po' troppo altini. mi piacciono di più perché sono più grossi e a me piacciono i tom grossi, però questa è molto più gestibile, poi con la Cassa d'Aventi. Comunque la Cassa d'Aventi ha quella spinta e quella punta che è molto 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 bella, vero? Sono super d'accordo, penso che i sei strati di Betulla facciano il loro... Sicuramente, sicuramente. Il loro lavoro. Voglio provare il rullante. Allora, lo provo a tirare un po'. Oh, yes. Che, come avete sentito, come al solito, anche questa era accordata. I tom erano... Perfetti di intonazione. Il rullante, a mio gusto, lo tiro un filino su per provare. Andiamo un pochetto alla cordiera. Andiamo così. Questo set, così, questo più i piatti, funzionano molto bene. Molto 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 bene. Adesso proviamo il terzo. Go! Quindi... Il terzo. Ti dico. Allora, adesso ti dico. Vai. Ok, Lore, molto bene. Siamo di nuovo in piedi. Allora, abbiamo provato. Una, che è questa qui, che l'abbiamo rimontata lì. Due, mi fai provare adesso un'altra batteria e magari... Facciamo finta, io ho un pochettino più di budget. Ok. Mi puoi dare qualcosa senza andare troppo su. Ok. Ma comunque, con un filino più di budget, oppure no? Allora, direi, rimaniamo più o meno sullo stesso budget, ma con meno cose a portata, o meglio. Ok. Io andrei sulla serie Performer che fa Tama. Ok. Che in questo caso... Bianca se no niente. Eh? Bianca se no niente. Bianca se no niente. In questo caso, purtroppo, andiamo su... L'esatto opposto, ovvero un kit tutto nero, che spina e basso tutto effettivamente. Non ha bisogno di presentazioni, perché insomma, c'è scritto Star Classic e effettivamente lo è. Ok. Ma rimane su una fascia di prezzo molto simile a quella che abbiamo visto finora. Perché Star Classic, io sono abituato che sia di fascia molto superiore come prezzo, invece in questo caso no. No, in questo caso no, perché il... adesso lo andremo a vedere poi una volta montata, il... la formazione di legni che c'è all'interno non è usuale per Star Classic, è una cosa nuova che hanno fatto per una serie un pochettino più economica. Adesso lo andremo a provare, sono rimasto meravigliato da questa batteria. E... in questo caso però la dotazione comprende solo ed esclusivamente i fusti. Ok. Quindi, cassa da venti anche in questo caso, i due tom e il timpano. Ok, ottimo. Quindi direi, piatti manteniamo quelli che abbiamo preso, i classic di Minol e quindi ci manca rullante. Yes! Ok. In questo caso vediamo se... che preferisci? Magari rimaniamo sulla... rimaniamo sempre in casa d'ama qualcosa di standard o qualcosa di un po' più pazzerello? Ma allora, in generale io ti direi qualcosa di un po' più pazzerello. Vediamo quanto pazzerello. Ok. Allora, rimanendo in casa d'ama, andrei magari a prendere in considerazione SLP. Sì, ci sta. E se vogliamo provare qualcosa di un po' più su di giri, andrei o su i cerchi in legno, che è una roba sempre particolare, o un bel tom rullante da profondità 8. Mamma mia, allora, difficile come scelta, perché li vorrei provare tutti e due, ma oggi siamo sulle batterie. Quindi ne proviamo uno, direi anche per il prezzo e soprattutto perché mi fa molta gola questo, però è impressionante. Vai con questo SLP qua. Vai. Allora, spostiamoci anche qua e ci vediamo. Let's go. Eccoci qua. Allora, Star Classic rivisitata. Oh yes, abbiamo a che fare, esatto, con una Star Classic che non ha bisogno di presentazioni, in questo caso è una Star Classic Performer che ha come fusto un 4 moduli di betulla con 2 di acero all'interno. Ok, quindi betulla secca, acero un po' più caldo. Nota, sì. Ok, nota. Assolutamente. Quindi sono curioso in realtà di provarla, perché appunto io ho sempre provato la Star Classic normale, quindi quella un po' più costosetta. Volevo dirti qualcosa che non ricordo, quindi la provo e poi ti dico. Volevo dirti qualcosa che non ricordo, quindi la provo e poi ti dico. Allora, non avendo due Star Classic da provare, una Performer e una normale, io sincero non ti so dire adesso a memoria quali siano le differenze, quindi come cosa positiva. Nel senso che comunque è una batteria sicuramente di fascia superiore rispetto alle due che abbiamo provato prima, cambia come prezzo alla fine anche perché è vero che più o meno il prezzo è sempre quello, ma ti mancano delle cose. Piatti pedale anche, mi sembra, solo fusti hai? Solo fusti, questa è praticamente la stessa fascia della Sonor, ma a disposizione ci sono solamente fusti. Chiaramente cambia proprio l'approccio che ha lo strumento a tutto il resto. Qui, a differenza dei kit di prima, ci sono i cerchi dei cast che sono insomma un bel cambiamento. Sì, sì, assolutamente. Questa secondo me è comunque una batteria già pensata per chi vuole qualcosa di fascia ancora sopra. Infatti immagino non ci sia niente perché molto spesso, tante volte magari i batteristi hanno già il loro rullante e vogliono cambiare i fusti, eccetera. Un rullante che gli abbiamo messo, abbiamo fatto questa pazzia dove gli abbiamo messo il timpano praticamente, però in realtà non è mica male, è un SLP che appunto ha tanta botta, tanta botta, mi piace. Questo rullante qui, te lo dicevo anche prima mentre lo stavo montando, che io lo vedo benissimo come rullante da mettere. Qui e questo timpano metterlo di qua. Quindi magari un rullante più standard davanti e come primo timpano hai un rullante che quindi può funzionare da timpano o no. Anche perché nel momento in cui, adesso è troppo tirato però, secondo me se lo tiri meno, troviamo. Vai. Ci sta è. E poi lo accordi in modo tale da poter tirare la cordiera. Adesso non so cosa... Beh, o nel passato. Esatto, quindi cioè tu hai... Perfetto, perfetto. Quindi questo primo rullante promossino, secondo rullante promosso al 100%. Quindi secondo rullante, ma non da mettere di qua, la mettere di qua. Secondo me è bellissima come batteria. Rullante comunque, adesso l'abbiamo tirato e lui ve lo può assicurare, l'ho tirato abbastanza a caso. Cioè, tirato giù velocemente, poi gli abbiamo messo la cordiera e comunque suona. Quindi... O stroke. Esatto, esatto. Quindi ottimo rullante, ottima suonabilità batteria che... Consiglio di provarla. Consiglio di provarla anche a chi è in fissa, soprattutto a chi è in fissa con le Star Classic. Perché qui appunto hai una cosa, secondo me molto simile, sarebbe appunto da fare il confronto con l'altra, ma secondo me molto simile a un prezzo che è la metà. Decisamente. Quindi ottimo, ottimo. Beh, direi che un po' di roba oggi l'abbiamo provata. Oh yes. Quindi fate sapere qui sotto nei commenti quale vi è piaciuto di più e con questo io voglio ringraziare Play Music Store qua a Roma per avermi permesso di fare questo video. Voglio ringraziare tantissimo Lorenzo per avermi aiutato. Ovviamente Lorenzo lo trovate qui da Play Music Store se fate un giro e vi darà tutte le varie informazioni su quello che volete. E con questo vi salutiamo e grazie mille. Al prossimo video. Ciao!